Roberto, una vittoria importante per mantenere un posto importante in Coppa Italia e poi c'è per tre giorni la partita, ancora più cruciale. Abbiamo vinto in una certa forma bene, 3-1, penso che riusciamo a mantenere il secondo posto in classifica e questo per la Coppa Italia va molto bene. Abbiamo un impegno molto forte nel prossimo mercoledì contro Tenerife, dobbiamo vincere 3-0, 3-1, però la possiamo fare. Auguro alle ragazze che si guariscono il più presto possibile, c'è qualche piccolo problema che mi fastidisce ancora, però cercheremo in questi giorni che mancano la partita di riposare e concentrarsi per fare una buona gara e vincere e continuare questa strada della Champions League. Grazie.